Ciao a tutti, io sono Marino e vi do il benvenuto nel secondo video del corso di BricsCAD Beam. Quest'oggi vedremo insieme cosa sono e come funzionano gli XRIF, quali sono i comandi base e come funzionano i comandi base per la modellazione tridimensionale e quali sono e come funzionano sempre i comandi base per la modellazione 3D ma partendo da una geometria 2D. Quindi a questo punto possiamo aprire il file che utilizzeremo per questo video e lo possiamo trovare sempre nella cartella di riferimento che vi è stata messa a disposizione navigando nella cartella modellazione successivamente su edificio binario scorrevole. A questo punto aprire il file che si chiama complessivo.dvg. Io per comodità ce l'ho già aperto ed è questo qui. In questo file ci sono diversi XRIF. Parliamo quindi di riferimenti esterni, disegni che vengono, come si dice in gergo, attaccati ad un file principale che è praticamente quello che stiamo vedendo in questo momento. Questa tecnica è molto usata per alleggerire il file quindi ci saranno diverse parti, diversi disegni che compongono un file molto più grande per avere poi una visione d'insieme dell'intero progetto e senza appesantire il file. Tutti i riferimenti esterni presenti nel disegno possono essere visualizzati attraverso il pannello riferimenti posto a destra dell'area di lavoro cliccando sull'icona forma di graffetta. Se non doveste vedere questo tipo di pannello vi basterà semplicemente cliccare con il pulsante destro del mouse nella zona della barra multifunzione e alla voce pannelli selezionare la voce riferimenti per visualizzare il pannello dei riferimenti. BricsCAD oltre a darci la possibilità di caricare dei riferimenti esterni ci dà la possibilità di importare dei disegni modellati con diversi altri software come per esempio Rino. Per fare un esempio di importazione possiamo cliccare sull'icona sul logo di BricsCAD qua in alto a sinistra e selezionare sulla voce importa. Ora a questo punto vi basterà navigare nella cartella dove avete il vostro file da importare in questo caso noi siamo già nella cartella di riferimento e clicchiamo sul file generato da Rino e poi selezioniamo il pulsante apri. Ora aspettiamo che il software termini l'operazione di importazione per vedere il file importato nel nostro disegno complessivo. Ed ecco qui il nostro file caricato nel disegno principale. Ora se ne avessimo la necessità potremmo modellare ulteriormente questo file, questo modello direttamente da BricsCAD. Per fare un esempio utilizziamo il pannello code per estendere col premi e tira questa trave. Come potete vedere possiamo modellare tranquillamente il disegno che abbiamo appena importato. Bene, ora possiamo passare alla seconda parte del video dove andremo a modellare questo parallelepipedo che è un riferimento esterno per trasformarlo in un edificio simile a questo qua. Prima però di iniziare la modellazione vorrei fare un ripasso sulla priorità di selezione tra gli spigoli, i contorni e le facce che abbiamo visto nello scorso video. Questi strumenti che BricsCAD ci mette a disposizione sono molto importanti perché ci serviranno per la modellazione che effettueremo tra pochissimo. Quindi facciamo un veloce ripasso aprendo un nuovo disegno e andando a disegnare un parallelepipedo, anzi un paio di parallelepipedi, non importa la posizione e la grandezza, ci serviranno solo per esempio. Allora, quindi passando col cursore sopra alle facce del solido e avendo la priorità di selezione delle facce attiva come possiamo vedere attraverso quell'icona selezionata, BricsCAD ci evidenzierà le facce che possono essere selezionate del solido. Poi con un click del mouse sinistro posso selezionare la faccia e attraverso il quad posso selezionare il comando che mi interessa per andare a effettuare la modellazione. Sempre con la priorità degli spigoli invece selezionata e posizionarmi in prossimità di uno spigolo, BricsCAD riuscirà a evidenziarmi gli spigoli in prossimità del cursore e poi con un click selezionare lo spigolo che mi interessa. Invece per quanto riguarda la priorità di selezione dei contorni ci basterà passare con il cursore sopra a una faccia dove è presente un contorno definito poi anche o da delle linee 2D, della geometria 2D oppure è definito come in questo caso da un altro solido tridimensionale e lo riconosceremo perché BricsCAD a differenza delle facce, che in questo caso le evidenzia con un contorno arancione, i contorni li evidenzia sulla superficie di colore verde e di contorno di colore azzurro. In questo caso poi potremo selezionare attraverso il quad utilizzare il comando che preferiamo per la nostra modellazione. Delle varianti su queste priorità di selezione sono che praticamente deselezionando la priorità degli spigoli, io posso lo stesso, sono in grado lo stesso di selezionare gli spigoli tenendo premuto il pulsante control. Come vedete adesso non riesco a selezionarlo trovandomi in prossimità dello spigolo ma tenendo premuto control posso selezionare ugualmente lo spigolo anche se la modalità di selezione spigoli è disattivata. Allo stesso modo con il control premuto riesco a selezionare tutto il solido. Bene, concludiamo questo recap della priorità di selezione di BricsCAD e torniamo alla modellazione del solido. Bene, ora possiamo andare ad aprire il riferimento esterno di questo parallelepipedo sostando sul solido e attraverso il pannello quad possiamo alla scheda modifica selezionare il comando che ci interessa per aprire l'XRIF, quindi apriXRIF. Come vedete si è aperto il file del riferimento esterno per permetterci di modellare il solido in tutta tranquillità. Quindi ora possiamo immediatamente introdurre il primo comando che si tratta del comando ruota 3D che serve per ruotare l'oggetto tridimensionale oppure le facce del solido. Quindi ricordiamoci di avere la priorità di selezione delle facce attiva come in questo caso e andiamo a sostare sulla faccia che tendiamo a ruotare, in questo caso questa qui. E attraverso il pannello quad io mi trovo già il comando in prima posizione perché è uno dei comandi che ho usato di recente, però lo possiamo trovare alla scheda modello e possiamo trovare appunto il comando ruota. Quindi lo selezioniamo e come possiamo notare è apparsa vicino al cursore una freccia gialla che ci indica il senso di rotazione che avrà poi la faccia. Quest'icona, questa freccia gialla sarà ancorata allo spigolo in prossimità del cursore facendoci capire quale sarà lo spigolo che verrà preso in considerazione per la rotazione. A noi interessa questo spigolo qua in basso quindi ci posizioniamo col cursore vicino allo spigolo e lo selezioniamo col pulsante sinistro del mouse. Ora possiamo decidere l'inclinazione in maniera dinamica e in base a dove spostiamo il cursore possiamo decidere il senso di rotazione e poi inserire un valore per determinare i gradi che avrà l'inclinazione. Noi iniziamo a inclinarlo in questo senso perché interessa inclinarlo in questa direzione e poi inseriamo il valore 15 per determinare l'ampiezza dell'angolazione. Ora allo stesso modo utilizzando ancora una volta il comando ruota andiamo a modellare e inclinare la faccia superiore utilizzando questa volta questo spigolo quindi lo selezioniamo e lo incliniamo verso il basso di 10 gradi. Benissimo. Ancora una volta allo stesso modo utilizzando il comando ruota che posso visto come ho utilizzato di recente posso selezionarlo in prima posizione dal pannello quad invece che andare nella scheda dove si trova effettivamente il comando quindi in maniera molto veloce il pannello quad ci aiuta nella modellazione quindi lo posso selezionare in maniera molto rapida e utilizzando invece questa volta questo spigolo possiamo inclinare la faccia del nostro solido in questa in direzione di 15 gradi. perfetto. Ora assicuriamoci di avere il rilevamento dei contorni attivo bene in questo caso lo è e facciamoci aiutare dalla griglia che abbiamo sotto il solido per andare a modellare due semplici colonne di questo edificio quindi ci basterà semplicemente andare col mouse sulla griglia per permettere a di evidenziare i contorni quindi andiamo semplicemente a selezionarli dobbiamo selezionare i contorni che andranno a interagire con la prossima modellazione utilizzando il comando premi e tira che possiamo trovare sostando nell'area che abbiamo selezionato attraverso il pannello quad alla scheda modello io come sempre ce l'ho in prima posizione perché è uno dei comandi che ho usato recentemente quindi selezioniamo il pannello premi e tira il comando premi e tira e possiamo subito notare dall'anteprima come funziona questo comando quindi andando a intersecare con il solido quindi muovendo il cursore verso il solido le aree che abbiamo selezionato attraverso la griglia andranno a sottrarsi nel solido invece viceversa se muoviamo il cursore dalla parte opposta si andranno ad aggiungere al solido a questo punto possiamo utilizzare il dinamismo di bricscad muovendo il cursore su e giù e cliccando nella posizione dove ci serve definire l'altezza delle colonne oppure andare a inserire un valore che in questo caso inseriremo un valore di 5500 mm perfetto quindi come potete vedere con soli due comandi siamo arrivati a una definizione di modellazione abbastanza discreta quello che dobbiamo fare noi ora è andare a creare una sezione nel modello per permetterci di andare a modellare appunto l'interno del nostro solido questa cosa la possiamo fare utilizzando il comando definisci sezione che si trova nella scheda modellazione della barra multifunzione cliccando su questo pulsante a questo punto ora possiamo cliccare su una faccia verticale del solido per andare a definire una sezione verticale e poi cliccare su un punto a caso per definirla come possiamo notare questo solido è un solido pieno e quello che serve a noi fare ora è andare a svuotarlo per fare questo possiamo utilizzare un comando che si chiama appunto svuota che lo possiamo trovare sempre alla scheda modellazione della barra multifunzione cliccando su questo pulsante all'attivazione del comando possiamo selezionare il solido e premere invio a questo punto bricscad ci chiede quanto è quanto quanto spessore vogliamo dare al nostro solido noi per questo esempio selezioniamo il valore 300 e premiamo invio dopodiché premiamo di nuovo invio per uscire dal comando bene come vedete in maniera automatica bricscad ha svuotato il solido a questo punto possiamo andare a cancellare la sezione che abbiamo creato che ci è servita per fare per fare questo comando cliccando sulla linea nel modello che rappresenta la sezione e premere sul pulsante cance per cancellarla bene come in un attimo abbiamo svuotato il solido bene a questo punto posso introdurvi un altro comando si tratta nello specifico del comando dividi che praticamente si occupa in maniera molto automatica di dividere in questo caso le pareti di questo edificio in solidi separati grazie anche allo svuotamento che abbiamo effettuato in precedenza quindi ci basta semplicemente cliccare per selezionare tutto il solido e dal pannello quad andare alla scheda modello e cliccare sul pulsante sul comando dividi come possiamo notare in maniera molto automatica bricscad ha diviso in solidi separati quello che prima era un solido unico ora possiamo andare a definire meglio quelle che sono le pareti diciamo laterali siccome il comando dividi anche diviso questa porzione ma noi vogliamo che sia un solido intero quindi una parete unica a questo proposito possiamo introdurre il comando unione che possiamo trovare nel nella scheda modellazione della barra multifunzione attraverso quest'icona o attraverso il pannello quad quindi selezioniamo le solidi in questione e premiamo sul pulsante unione in maniera molto automatica e veloce bricscad si è occupato di unire i due solidi facciamo lo stesso con la parete opposta clicchiamo sul pulsante unione benissimo a questo punto si può notare come quest'operazione l'operazione di divisione abbia creato delle piccole imperfezioni in questa zona andando a creare questo questo gradino noi possiamo tranquillamente rimuovere queste imperfezioni utilizzando il comando premi tira e la selezione delle facce attiva quindi basterà posizionarci col cursore in questa zona e col pulsante tab scorrere tra le varie facce disponibili selezionabili arrivati a quella che ci interessa attraverso il pannello quad premere sul pulsante premiti sul comando premi tira e attraverso lo snap gli snap agganciarci a quello lo snap punto finale dello spigolo per andare a eliminare il gradino allo stesso modo lo possiamo fare dalla parte opposta quindi premiamo tab per arrivare alla faccia desiderata e col pulsante premio tira andiamo a eliminare il gradino come possiamo notare sono rimasti degli spigoli inutili che possiamo ancora una volta tranquillamente andare ad eliminare selezionandoli e premendo catch sulla tastiera badate bene che in questo caso non ho attiva la priorità di selezione degli spigoli ma posso comunque tenendo premuto control andare a selezionare lo spigolo che mi serve quindi premerlo e selezionare catch dalla tastiera per cancellarlo allo stesso modo posso farlo dall'altra parte però potrei sì comunque andare a utilizzare il pulsante catch per eliminare questo spigolo ma voglio farvi vedere un altro comando che secondo me è molto utile quando avete numerosi spigoli e farlo in maniera manuale spigolo per spigolo diventa troppo lungo un'operazione lunga quindi possiamo usare il comando semplifica che troviamo sulla barra modellazione della scheda della barra multifunzione e cliccando appunto sul pulsante semplifica possiamo di conseguenza poi selezionare il solido e premere invio come possiamo notare il comando ha efficacemente eliminato lo spigolo superfluo perfetto bene ora per andare a modellare l'interno del nostro edificio possiamo utilizzare il comando nasconde identità che si trova nella parte in alto del software oppure nella scheda modellazione qua a destra quindi attiviamo il comando e selezioniamo sul solido da nascondere come possiamo notare il comando dividi ha creato diversi solidi per il nostro pavimento ma noi serva che essendo il nostro pavimento appunto serva che sia un solido unico quindi possiamo utilizzare ancora una volta il comando unione per andare a definire un solido intero perfetto rimanendo sul sul pavimento del nostro edificio possiamo notare esserci un buco che in realtà vogliamo che non ci sia quindi a questo proposito possiamo introdurre un nuovo comando che si chiama connetti al più vicino che serve appunto per connettere la faccia di un'entità quindi di un solido 3d verso il solido più vicino nella sua traiettoria quindi selezioniamo la faccia che ci interessa allungare in questo caso e dal pannello quad andiamo alla scheda modello e selezioniamo appunto il comando connetti al più vicino in maniera automatica come vedete bricscad si è occupato di allungare la faccia che abbiamo selezionato verso il solido più vicino a questo punto possiamo spostarci su questa parete perché vogliamo che sia connessa al soffitto qua in alto per fare questa operazione prima dobbiamo introdurre un nuovo comando che si chiama appunto connetti al che si trova alla scheda modellazione della barra multifunzione e che serve appunto per connettere ad angolo due solidi attraverso una serie di tipologie che possiamo scorrere con il pulsante control attraverso anche il widget che appare per l'occasione quindi attiviamo il comando e selezioniamo i due solidi a questo punto in maniera automatica di default bricscad connetterà i due solidi utilizzando il prima tipologia e utilizzando il pulsante control possiamo scorrere attraverso appunto le tipologie che dicevo prima quindi utilizziamo questa tipologia che è quella che serve a noi per connettere appunto questa parete al soffitto utilizzando ancora una volta il comando connetti al più vicino a questo punto selezioniamo la faccia da connettere e utilizziamo ancora il comando connetti al più vicino per innalzare la parete e connetterla perfettamente sagomata al nostro soffitto perfetto quello che dobbiamo fare noi ora è andare a creare i piani all'interno del nostro edificio per fare questa operazione possiamo utilizzare il comando copia beam che possiamo trovare nella scheda modellazione della barra multifunzione quindi a questo punto possiamo attivare il comando e selezionare sul solido che intendiamo copiare e premere invio a questo punto possiamo definire in maniera dinamica l'altezza oppure inserire un valore noi per questo esempio utilizzeremo un valore di 4000 a questo punto sarà apparso come si può vedere il widget che ci permetterà di scorrere attraverso le varie opzioni di copia che sono quelle che dicevo prima quindi la copia singola e la copia in serie quindi attivando cliccando su pulsante control attiveremo la seconda modalità di copia che è appunto la modalità in serie quindi noi osserva che ci siano due piani oltre al primo quindi ci posizioniamo in questa zona facciamo in modo che appaia il terzo piano che saranno poi equidistanti equispaziati rispetto al valore che abbiamo inserito precedentemente e clicchiamo col pulsante sinistro del mouse per definire il piano e successivamente possiamo premere invio per uscire dal comando e vediamo come copia beam abbia creato i piani che ci servivano a questo punto possiamo come vediamo qui in questa zona utilizzare ancora una volta il comando connetti a più vicino per connettere i nostri piani alla parete verticale inclinata quindi nulla di più semplice ci basta selezionare la faccia e dal pannello quad selezionare connetti al più vicino lo facciamo per tutti e due piani e abbiamo così infine modellato i piani del nostro edificio a questo punto ora possiamo andare a definire le pareti verticali che si trovano all'interno dei piani per fare questa operazione assicuriamoci di avere il rilevamento dei contorni attivo come in questo caso e attraverso il solito comando copia beam possiamo andare a selezionare la porzione grazie al rilevamento dei contorni solo la porzione della parete verticale definita dai piani orizzontali quindi la selezioniamo premiamo invio e possiamo come sempre definire in maniera dinamica la posizione della parete oppure inserire un valore noi per questo esempio possiamo a questo punto definire la posizione in maniera casuale cliccando a caso in un punto a caso del modello e come avete notato come avete potuto notare prima è apparso il widget per la selezione della copia singola o la selezione della copia in serie noi attiviamo la copia singola clicchiamo per definire un'altra parete bene in questo con questo comando si conclude la seconda parte di questo video che dove abbiamo visto tutti i comandi base per la modellazione tridimensionale in pochi semplici comandi siamo siamo riusciti ad arrivare a questo a questo a questo risultato che direi è abbastanza soddisfacente bene ora entriamo nell'ultima parte di questo video dove vedremo sempre i comandi base per la modellazione 3d applicati questa volta ad un layout bidimensionale per questo esempio andiamo ad aprire il file che vi è stato messo a disposizione sempre nella cartella di riferimento relativa a questo video quindi cliccando nella cartella modellazione poi successivamente nella cartella ufficio e apriamo il file di ufficio.dvg io per comodità ce l'ho aperto ed è questo qui assicuriamoci di non avere la prospettiva attivata quindi cliccando con pulsante destro sul sullo strumento circolare per la selezione delle delle viste clicchiamo su prospettiva bene ora introduciamo appunto questo comando che si chiama quick draw che si trova in testa alla barra multifunzione nella scheda modellazione e serve a proprio per effettuare delle operazioni di questo tipo all'attivazione del comando possiamo subito notare come in corrispondenza del cursore si è apparsa questa forma e che questa si ganci in maniera del tutto automatica e rimanga vincolata alla geometria bidimensionale presente nel disegno quindi ora non ci resta altro che cliccare qua in alto a sinistra come per andare a definire un'area di selezione e cliccare nuovamente dalla parte opposta della stanza e vedere come bricks cad si occupi in maniera automatica di estrudere pareti e pavimento è semplicemente comodissimo facciamo lo stesso per definire le altre zone della piantina e in questo caso però dobbiamo appoggiare il nostro cursore nella parte già estrusa della casa in modo tale da iniziare la definizione della selezione andando da sinistra verso destra come possiamo notare bricks cad colorerà di rosso la parete che abbiamo appena estruso indice del fatto che verrà cancellata per permettere l'unione della della nuova parte che stiamo andando ad estrudere con quella già esistente facciamo clic e possiamo notare che bricks cad ha automaticamente eliminato la parte in eccesso del muro completiamo la pianta andando a realizzare il resto delle stanze rimanenti quindi torniamo nella vista dall'alto e riattiviamo il comando andando a notare come il cursore del quick draw cambi forma e si adatti nella forma per andare a disegnare quindi estrudere le pareti che hanno lo stesso spessore della geometria bidimensionale quindi clicchiamo e in questo caso possiamo oltrepassare la parete che abbiamo creato precedentemente per permettere a bricks cad di andare a sagomare automaticamente la parete del solido che stiamo creando facciamo così procediamo questo in questo modo con per andare a realizzare il resto delle delle stanze quindi appoggiamo il cursore del quick draw e oltrepassiamo la parete come vedete bricks cad automaticamente sagoma le pareti che andiamo a distrudere facciamo così anche per il resto anzi per l'ultima per l'ultima stanza e voilà tutte queste tutte queste entità sono sì dei solidi ma utilizzando il comando quick draw vengono anche classificate automaticamente come muri quindi con le relative proprietà la cosa interessante è che a comando attivo ed avvicinandoci alla struttura apparirà sul lato questo più come in questo caso che cliccato ci darà la possibilità di copiare n volte il piano che abbiamo appena creato cliccando appunto su questa icona quindi come vedete cliccando bricks cad ha copiato automaticamente e in maniera molto veloce tutte quante le entità quindi noi continuiamo a cliccare fino ad ottenere un edificio alto 5 piani e oltre a questo feature bricks cad ci dà la possibilità di chiudere l'edificio con un diretto cliccando su quest'icona e come vedete abbiamo creato un edificio utilizzando semplicemente un comando e partendo da una geometria bidimensionale per introdurre il prossimo comando dobbiamo creare una sezione dell'edificio utilizzando il solito comando definisci sezione e creare appunto una sezione più o meno in questa zona qui ok così vi faccio vedere anche un po all'interno dell'edificio e vi spiego come funziona il comando scala che come si può ben intuire dal nome crea automaticamente una semplificazione di una scala il comando lo possiamo trovare nella scheda modellazione della barra multifunzione attraverso quest'icona all'attivazione possiamo notare che appoggiando il cursore su una superficie questa venga automaticamente riconosciuta e che il cursore appunto si agganci in maniera automatica alle pareti proprio esattamente come fa il quick draw con il pulsante control invece possiamo in questo caso ruotare il cursore per definire un nuovo punto di partenza di una scala quindi per questo esempio possiamo appoggiare il cursore su questa parete e con un click iniziare la definizione della scala in questo caso in questo caso spostando il cursore da destra verso sinistra possiamo aumentare il numero di gradini e vediamo automaticamente come la scala si genera in maniera dinamica appoggiando invece il cursore su questa superficie quindi sulla sul piano sottostante possiamo notare come automaticamente si crea un pianerottolo quindi in questo caso lo appoggiamo appoggiamo la scala che si aggancerà automaticamente a questa parete e per definirla in maniera definitiva appunto clicchiamo con il pulsante del mouse perfetto per intervenire sui parametri che definiscono la scala vi basterà selezionarla e attraverso il pannello proprietà che troviamo sulla parte destra dell'area di lavoro andare alla sezione corrispondente quindi parametri dove ci sono elencati tutti i parametri appunto che definiscono la scala mettiamo a questo punto di voler cambiare lo spessore dei gradini ci basterà semplicemente andare al controllo relativo che in questo caso si chiama step thickness e cambiare il valore da 50 che è il valore attuale a 100 e istantaneamente vedremo aggiornarsi in maniera automatica l'altezza dei gradini sul nel modello 3d bene andiamo ora a ampliare la l'apertura che si è generata quando abbiamo definito la scala e lo facciamo con il solito comando premi e tira e il rilevamento delle facce attivo quindi sostiamo sulla faccia che intendiamo modificare e con il pulsante con il pannello quad andiamo a utilizzare il comando premi e tira per andare a sottrarre dal solido pavimento la porzione necessaria per l'ampliamento del foro utilizziamo poi uno snap della parete verticale per andare a definire l'operazione perfetto come avete potuto intuire con pochi e semplici comandi come per esempio il quick draw e la scala siamo stati in grado di modellare un edificio un edificio intero perfetto per quanto riguarda invece la pianta che abbiamo qui di fianco purtroppo non possiamo utilizzare il comando quick draw perché la geometria non si presta per via dell'inclinazione appunto delle pareti come possiamo notare infatti attivando il comando quick draw effettivamente possiamo notare che il cursore sia incompatibile con l'inclinazione delle geometrie 2d ma niente paura perché possiamo utilizzare il comando solido di estrusione assicuriamoci appunto di avere il rilevamento dei contorni attivo e selezioniamo questo contorno attraverso il pannello quad selezioniamo il comando solido di estrusione che possiamo trovare nella scheda modello a questo punto possiamo utilizzare il solito dinamismo per definire l'altezza della parete oppure andare ad inserire un valore che per in questo caso sarà di 3000 mm perfetto abbiamo definito la nostra prima estrusione per creare il pavimento a questo punto dobbiamo prima effettuare un'operazione intermedia che sarebbe quella di creare un solido di contorno appena sotto le pareti che abbiamo appena creato quindi possiamo per fare questa operazione utilizzare il comando premi e tira e il rilevamento assicuriamoci di avere il rilevamento delle facce attivo quindi selezioniamo questa faccia e dal pannello quad utilizziamo il comando premi e tira inseriamo un valore di 250 mm per andare a creare appunto il nostro solido di contorno questa operazione è stata molto importante perché abbiamo creato così facendo questo spigolo che ci ha permesso che ci permetterà anzi di creare la nostra pavimentazione utilizzando il comando solido di estrusione a questo punto possiamo utilizzare anzi assicuriamoci di andare ad estrudere la parete il contorno opposto a questo raccordo perché come avrete sicuramente intuito utilizzando poi il comando connetti con più vicino saremo in grado automaticamente di andare a sagumare la nostra pavimentazione con il nostro raccordo del muro quindi andiamo a selezionare il nostro contorno e con il comando solido di estrusione andiamo a a distrudere la nostra pavimentazione andando a fermarci un attimino prima del raccordo a questo punto possiamo utilizzare il comando connetti al più vicino per andare a connettere il pavimento al raccordo e sagumarlo in maniera automatica perfetto a questo punto ora noi dobbiamo fare in modo di separare le pareti di questo edificio trasformandole in solidi a se stanti perché come possiamo notare ora fanno parte di un solido unico quindi selezioniamo il solido l'intero edificio tenendo premuto il pulsante control e dal pannello quad alla scheda modello possiamo utilizzare il comando dividi per fare per effettuare questa operazione come possiamo notare in maniera automatica BricsCAD si è occupato di dividere le pareti dell'edificio ad eccezione di queste due che sono ancora unite per via del raccordo del muro per effettuare ancora una volta questa divisione quindi per separare queste pareti dal raccordo utilizzeremo il comando multitrancia a questo punto selezioniamo il solido tenendo premuto il pulsante control e attraverso il pannello quad nella scheda modello possiamo andare a selezionare il comando multitrancia attenzione perché questo comando ha l'icona molto simile a un altro comando che si chiama trancia d'oggetto che però vedremo successivamente per ora concentriamoci sul comando multitrancia quindi lo selezioniamo e a questo punto BricsCAD ci chiede di selezionare un riferimento per la definizione del piano di taglio a noi serve che sia diciamo parallelo a questo spigolo quindi selezioniamo diciamo questa parete per la definizione del piano di taglio a questo punto sarà apparsa una rappresentazione circolare del piano di taglio che possiamo posizionare in maniera dinamica nel modello oppure inserire un valore rispetto al riferimento che abbiamo utilizzato per la definizione del piano di taglio a noi serva che sia in corrispondenza di questo spigolo quindi possiamo utilizzare lo snap dello spigolo per andare a determinare il taglio come possiamo notare automaticamente BricsCAD si è occupato di separare questa parete dal resto del solido ora allo stesso modo dobbiamo fare la stessa operazione però su questa parete quindi selezioniamo ancora l'intero solido con control e selezioniamo dal pannello code ancora il comando multitrancia a questo punto a noi serva che sia parallela a questo spigolo il piano di taglio quindi selezioniamo questa parete e vediamo come sia di nuovamente apparsa la rappresentazione del piano di taglio allo stesso modo selezioniamo questo snap in corrispondenza dello spigolo e possiamo notare che in maniera automatica ancora una volta BricsCAD ha diviso tutti e tre i solidi perfetto ora possiamo andare a definire in modo molto rapido e veloce le pareti del nostro edificio utilizzando ancora una volta il comando solido di estrusione e il rilevamento dei contorni attivo quindi selezioniamo questo contorno e dal pannello code selezioniamo il comando solido di estrusione ora per definire l'altezza delle pareti possiamo utilizzare lo snap delle pareti che abbiamo estruso precedentemente perfetto a questo punto possiamo utilizzare un ultimo comando per andare a creare i piani del nostro edificio che è il comando copia quindi ci basterà semplicemente selezionare l'intero solido, l'intero edificio e dal pannello code selezionare alla scheda modifica il comando copia ora il software ci chiede di selezionare un punto di riferimento noi selezioniamo questo per andare a copiare l'intero piano sulla parte superiore del piano sottostante possiamo copiare fino a quando abbiamo necessità e andremo a creare un edificio alto 5 piani come quello di fianco ESC per uscire dal comando e in pochi semplici passaggi abbiamo creato un edificio partendo da una geometria 2D senza l'ausilio del quickdraw bene anche questo video termina qui dove abbiamo visto tutta una serie di comandi base per la modellazione tridimensionale come il solido di estrusione oppure connetti con più vicino o connetti a L successivamente abbiamo visto ancora comandi base per la modellazione tridimensionale ma questa volta partendo da una geometria bidimensionale come il comodissimo quickdraw oppure come comando multitrancia nel prossimo video vedremo come funzionano i componenti BIM alla prossima! A presto!